Dopo una vita di gioia, coccole e amore incondizionato, non abbandonarlo nel momento più difficile. D'altra parte lui non lo farebbe mai. Affidati a Angeli Orme, con il nostro esclusivo servizio di cremazione potrai tenerlo sempre con te. Operiamo in tutto il Piemonte con reperibilità 7 giorni su 7. D'Angeli Orme ti offriremo un supporto completo e professionale, dal recupero del corpo alla cremazione all'espletamento di tutte le pratiche burocratiche, per rendergli un ultimo omaggio. Ci trovi a Carmagnola, in via Poirino 69. Chiamaci al numero 388 155 3015.